Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC auto inclusi. Scopri l'offerta. Bisogna evitare l'ampliamento dello stile di Piano Dardine in una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. La capogruppo consigliare di Sipu, Nadia Nace, è tornata sulla questione condannando il comportamento dei consiglieri PD che hanno bocciato la mozione presentata dal gruppo in consiglio comunale. Ed ora lancia la sfida. La mozione nostra è stata una mozione bocciata senza una motivazione particolarmente convincente da parte della maggioranza. Quella mozione ha avuto un voto contrario nonostante chiedesse per fatti importanti intercorsi tra cui l'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, implementasse e assegnasse nuove funzioni allo stir di Piano Dardine con 36.000 tonnellate annui di umido è passato inosservato eppure avremmo avuto 60 giorni di tempo per formulare delle osservazioni come Comune di Avellino. Questo non c'è stato. La bocciatura, ripeto, non è stata per me una bocciatura convincente, talmente tanto inattuata quella famosa mozione a cui i consiglieri comunali del Partito Democratico fanno riferimento nel 2014 che è stato addirittura redatto un piano regionale che andava in direzione opposta a quella mozione e tre ordinanze del Presidente della provincia. Dopodiché io li sfido. Se loro intendono dare seguito a quello che a chiacchierano detto in Consiglio Comunale allora non accettassero le deleghe da Forza Italia perché Gamba Corta è rappresentante di Forza Italia e votassero no all'accordo di programma con la Regione Erpini Ambiente.